Sono Stefano Spadoni e vi parlo da New York, oggi voglio parlarvi di Italia e di una polemica che riguarda l'Italia e gli Stati Uniti, come sapete un po' di tempo fa il New York Times ha scritto un articolo un pochettino brutto sull'Italia dicendo che era un paese in fondo senza speranza e naturalmente sono state le reazioni da parte dell'Italia, ho anche fatto un articolo, potete trovarlo sul mio sito che riguarda questo, ho dato anche un'intervista a un altro sito, trovate tutto quanto su stefanosnetwork.com, ma volevo ritornare un attimo su questo punto perché l'altro giorno guardo la televisione italiana che viene trasmessa qui alle 7 e mezza sul cable e stanno celebrando la Costituzione, cosa bellissima, ogni paese ha una Costituzione, è una cosa fantastica, è la difesa anche della democrazia di quel paese e a un certo punto nella lettura degli articoli della Costituzione arrivano un articolo che è l'articolo 21 e dicono che la stampa non è soggetta ad autorizzazioni e censure e a questo punto mi sono fermato, ho detto forse ho capito male, forse è un articolo che hanno aggiunto ultimamente, perché in Italia la stampa come sapete è soggetta ad autorizzazioni e censure, infatti autorizzazioni bisogna essere iscritti al tribunale e quello che è il direttore del giornale deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti, altrimenti non può avere un giornale, addirittura se vieni sospeso dall'ordine dei giornalisti automaticamente il giornale non può continuare a funzionare. Oltretutto l'Italia è uno dei pochissimi paesi, penso che ce ne siano due al mondo che ha l'ordine dei giornalisti, ma oltre quello c'è un altro problema più grave, che se un giornalista italiano dice qualcosa che non va, che è giudicato offensivo, soprattutto nei confronti di grosse autorità, può finire addirittura in galera, manettato, portato dentro, messo in galera, lasciato in galera per anni. Questo è una cosa inconcepibile negli Stati Uniti, dove in particolare se una persona è autorevole, se una persona è famosa, di fatto subisce qualsiasi forma di attacco non può fare assolutamente niente, ma se anche può fare qualche cosa può semplicemente citare in un tribunale civile la persona che lo ha colpito, dimostrare che ha subito un danno economico e non morale, economico e a farsi risalcire, cosa chiaramente abbastanza difficile. Per cui quando veramente si parla di Italia, di come le cose a volte vanno male in Italia, penso che dipenda molto anche dal fattore della stampa. La Costituzione italiana è una cosa fantastica, andrebbe applicata, probabilmente qualcuno non lo sa che c'è questa Costituzione, informateli, mandategli una lettera e dite qualche cosa, perché nella Costituzione c'è scritto che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure e se fosse così, secondo me, molte cose in Italia cambierebbero perché giornalisti potrebbero dire finalmente la verità sulle cose, sulle persone, su quello che succede e a un certo punto la gente probabilmente si sveglierebbe, potrebbe reagire, ma finché questo non succede, finché questa Costituzione è una cosa tanto bella, ma viene letta soltanto nei telegiornali, l'Italia purtroppo, mi dispiace, rimarrà quello che è con grande dispiacere perché potrebbe essere un fantastico paese. Con questo è tutto, sono Stefano Sponeto di New York, ci sentiamo domani, ciao!